Sì Aurora, basta che fai qualche curvetta per mantenere un pochino di freno, ok? Per mantenere un po' di freno. Guarda, avrì, avrì! Vieni, avrì! Fai piano, 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 piano! Piano, piano! Piano, piano! Piano, 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 piano! Piano, pianissimo! Piano, pianissimo! Piano, 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 piano! Piano, 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 piano! Colpettina! Ti devo prendere io! Qua, qua, qui c'è il bietto, vieni più di qua! Brava, 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 brava! Ora vi metto! Passa sempre di qua di lato, guarda! Qua dove passo io! Bravissimo! Adesso guarda! Veloce, 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 veloce! Bravissimo! Che speciale che sei, oh! Ma avevi chiesto di fare il sentiero? Prima mi avevi chiesto, facciamo il sentiero? Volevi fare il corridoietto, quella di Ottolino? L'abbiamo trovata, hai visto? No? Non era quello che volevi fare? Andiamo, dai! Pronti, partenza! Corvette, eh! Dalle corvette! Corvette, per quanto riguarda ilsociale. Prozredare il nostro lavoro in modo da mindsellatore. Corvette, aggiungo le pot e oppure. Corvette, segala, come onevi! Corre, pace, non è reminder. Corre, pace, non è possibile delato! Corre. Corre, pace, stai e per il nostro lavoro con le bush, Corre, pace, la crema! A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.